crumpets inglesi 12 pezzi 104 calorie per ogni crumpet per ingredienti quantità e valori nutrizionali visita il nostro sito e adesso cuciniamo in una ciotola capiente di grandi dimensioni versare il latte di soia e l'acqua entrambi tiepidi questo calore degli ingredienti favorisce un attivazione ottimale del lievito aggiungere il lievito per il pane nella quantità indicata in ricetta e lo zucchero per facilitare la crescita del lievito mescolare velocemente il tutto sciogliendo il lievito usando una frusta da cucina lasciar riposare questa miscela in un posto caldo per una completa attivazione del lievito per 10 minuti incorporare la farina un po alla volta usando la frusta da cucina per evitare la formazione di grumi raccomandiamo di prendere il tempo necessario in questa fase ogni volta che viene aggiunto un po di farina deve essere incorporata con molta cura fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo l'impasto in ciotola va completamente ricoperto con film di plastica e lasciato lievitare molto tranquillamente per due ore in un posto caldo della cucina una volta lievitato l'impasto dei crampets inglesi è notevolmente cresciuto soffice e denso oliare formine da cucina con l'olio di semi l'impasto è collante e l'olio agevola la manipolazione dei nostri crampets nella prima fase di cottura in una pentola su fuoco medio lento versare l'olio e spalmarlo con un pezzo di carta assorbente quando l'olio è caldo porre le formine oliate in fondo alla padella in ogni forma versare un po d'impasto per avere circa un centimetro di spessore in fondo alle formine lasciar cuocere su fuoco lento per circa 10 minuti dopo 10 minuti la parte superiore del crampet è solida rigirare le forme con cautela evitando di bruciarvi le dita per poi procedere a staccare dal bordo delle formine i crampet usando la lama di un coltello girando intorno al bordo cuocere l'altra faccia dei crampet per 2-3 minuti per i crampet successivi lavare le formine ogliarle di nuovo e ripetere l'operazione i crampets sono deliziosi con tè o caffè provali a colazione con la marmellata crampets inglesi 12 pezzi 104 calorie per crampet crampet are very good indeed buon appetit